Invece delle impressioni che hai ricevuto, te ti aspettavi, hai corrisposto alle tue aspettative questo corso? Sì, c'è sempre lampa là, per cui le orse buie, a volte nel settore le orse buie, per cui anche questa c'è rispetto all'inizio, ho scoperto delle orse che non sapevo, però ci sono tanti orse, ho l'avvenuto questo questo giurino, però ci vuole pazienza e se ti ci metti qualcosa, quindi la vogliono imparare, non si esaurisce qui, ma anzi diciamo che è stato uno stimolo ulteriore per andare avanti, perfetto, quindi mi sembra un bello di più. Pazienza ha avuto Valentina e Lucia, pazienza, a parte anche dei messaggi mandato, grazie per dire così, per quello che fate, perché ci vuole anche pazienza. Grazie mille, Sergio, grazie.